Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa nel rispetto della privacy gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese. Eccoci qua Marco. Buonasera a tutti. Un po' in ritardo, ma sempre presenti. Mi sa che la situazione è un po' più complicata rispetto a martedì. Giorno dopo giorno di che cosa? Di questi tamponi che vengono fuori positivi di volta in volta, di giorno in giorno, sempre di più. E anche gli attualmente positivi, cioè coloro i quali sono risultati positivi, non sono ancora risultati negativi, quindi non sono ancora guariti, sono sempre in aumento. In Italia, naturalmente, in Liguria, ma anche in tutto il mondo in generale. Ma andiamo con ordine Marco. Iniziamo subito con il dato che riguarda il dato nazionale, ovvero sia quello che compete, che viene diffuso anche dalla protezione civile, per esempio, che riguarda ad esempio il dato delle persone che sono guarite nelle ultime 24 ore, che hanno quindi ricevuto un tampone, secondo tampone negativo. Sono 1.060. 1.060 e abbiamo però un aumento notevole, purtroppo mi spiace dirlo, degli attualmente positivi. siamo a 65.952 attualmente in tutta Italia, persone che sono state tamponate e ad oggi sono ancora positive, nel senso che stanno magari vivendo una malattia, magari non grave a livello di sintomatologia, ma sicuramente non hanno ancora due tamponi negativi, come la normativa dice, per essere considerati quindi guariti. I decessi salgono, non tantissimo, ma salgono, ma salgono i casi totali, cioè oggi, pensate, 4.458 nelle ultime 24 ore, un dato che non si registrava dallo scorso aprile. Andiamo a vedere insieme dato per dato, Marco, partendo dal grafico numero 1, che proprio ci porta a risaltare questo valore appena detto. Vedete, lì sulla destra, eccolo lì, il valore più alto del mese e anche di più del mese, come detto, andare ad aprile per vedere un valore confrontabile, 4.458 tamponi positivi usciti nella giornata di ieri, di oggi, scusate. Andiamo a vedere il grafico numero 3, Marco, il grafico numero 3 ci fa vedere che cosa, i tamponi fatti oggi, però oggi abbiamo un record, questo ci consola un po' sul valore dei tamponi usciti positivi perché abbiamo fatto tantissimi tamponi in Italia, 128.098 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, un valore che supera quello di ieri che era già, diciamo, da record. Andiamo subito a vedere, quindi, la percentuale dei positivi sui tamponi fatti, il grafico 8, il grafico 8 ci dice che, purtroppo, però non è un valore tanto basso, lo vedete, anzi, escludendo il valore dello scorso lunedì, abbiamo un 3,5% che è un valore altissimo, altissimo, proporzionato naturalmente ai dati di questo mese. Ricordiamo che questo è un dato che mette in confronto i tamponi totali fatti con i tamponi positivi usciti nelle ultime 24 ore, tantissimi tamponi usciti, quindi, anche se i tamponi sono stati molti in totale, è sempre un valore alto. E se andiamo a vedere col grafico 9, i tamponi, le persone che sono state trovate positive per la prima volta nelle ultime 24 ore, sono il 6,5% del totale fatto ed è, come vedete, il valore più alto dell'ultimo mese. Un valore che, in questo caso, sì, che fa accendere qualche lampadina, dovrebbe, sicuramente così, far accendere qualche lampadina a livello di governo centrale e a livello di sistema sanitario nazionale. Andiamo a vedere, Marco, con il grafico 11. Il grafico 11 ci fa vedere i ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati in terapia intensiva salgono di 21, sono in totale oggi in Italia 358. Fortunatamente questo è un valore nettamente più basso del periodo dello scorso lockdown, naturalmente. Quindi, però, però, è in salita e dobbiamo prenderne, dobbiamo prenderne atto, purtroppo. Andiamo a vedere, invece, col grafico 7, i colori quali sono guariti nelle ultime 24 ore. 1060, non è un, in questo caso, un valore da record, anzi, sta scendendo da tre giorni a questa parte. 236.363 in totale. Per quanto riguarda i decessi, grafico 6, oggi abbiamo 22 persone morte causa Covid-19, oppure con il Covid-19 conclamato. Abbiamo, da andare a vedere, col grafico 5, ricoverati con sintomi. I ricoverati con sintomi, lo vedete, sono 143 nelle ultime 24 ore. Vanno a aumentare il totale di 3.925. sono persone che hanno il Covid-19 e sono ricoverate nei reparti Covid-19 di tutta Italia. Gli attualmente positivi, Marco, con il grafico 2, il grafico 2 ci dice quanto è aumentato il numero degli attualmente positivi, l'abbiamo detto all'inizio, 3.376 sono l'incremento degli attualmente positivi su un totale di 65.952. Ricordiamoci che questi non sono tutti i positivi di Covid-19 in Italia, ma sono quelli che sono stati testati e nel loro test quindi con il tampone sono risultati positivi e non ancora negativizzati. Questo è importante specificarlo perché ricordiamolo sempre sono molti, sicuramente sono molti ma molti di più i positivi al coronavirus in Italia perché non tutti vengono testati, non tutti magari hanno dei sintomi, sono sintomatici sintomatici e quindi non hanno necessità, non sentono la necessità di essere testati oppure hanno delle sintomatologie ma non hanno ancora ricevuto il tampone dalle singole ASL di competenza. Questo è un po' il quadro a livello nazionale. Ci spostiamo a dare un'occhiata a livello regionale con i grafici 0-0 come supporto ci dicono che cosa? Che oggi abbiamo 152 nuovi tamponi positivi. Abbiamo di questi ricordiamoci che abbiamo di attualmente positivi un incremento di 68 persone 3.789 ad oggi sono i Liguri positivi tra quelli testati naturalmente come abbiamo detto prima anche in Liguria vale lo stesso ragionamento abbiamo 223 di questi sono in ospedale 3 in più rispetto a ieri e 28 in terapia intensiva 4 in più rispetto a ieri quindi crescono gli ospedalizzati soprattutto anche in proporzione anche quelli di terapia intensiva purtroppo isolamenti domiciliari cioè coloro i quali sono positivi ma possono stare a casa sono 120 in più di ieri per un totale di 1932 persone abbiamo tra le altre cose i guariti che aumentano aumentano di 84 unità abbiamo superato i 9.000 guariti dall'inizio della pandemia nessun decesso fortunatamente nella nostra regione abbiamo il numero dei tamponi molto importante 3.857 tamponi fatti nelle ultime 24 ore per quanto riguarda gli ospedalizzati abbiamo una leggera crescita della nostra asole siamo a quota 7 ieri eravamo a 6 per quanto riguarda coloro i quali si trovano ricoverati nel reparto covid di Sestri Levante per quanto riguarda la cittadina chiavarese abbiamo oggi 19 casi di positività fra i chiavaresi uno in più rispetto a ieri abbiamo 58 persone in sorveglianza attiva queste sono poi le situazioni locali abbiamo parlato di regione abbiamo parlato di Tiguglio con Chiavari e se non hai domande Marco hai domande? ok non te lo chiedo giustamente facciamo un po' un raffronto con le regioni italiane grafico 12 Marco il grafico 12 come sempre quello a torta ci fa vedere dove sono concentrati il maggior numero di positivi nella nostra Italia lo vedete la campagna farà sempre la parte del leone con il 17% di positivi totali italiani riscontrati nelle ultime 24 ore abbiamo la Lombardia con il 15,3 abbiamo il Veneto con l'11% e poi il Lazio con l'8% il resto dell'Italia è al 48,7% andiamo a vedere col grafico 13 la prevalenza è un po' che non ve la facciamo vedere abbiamo quindi il famoso grafico con i quattro colori dal rosso al verde rosso diciamo arancione giallo e verde che mette a confronto la prevalenza cioè i casi per 100.000 abitanti regione per regione e sulla verticale avete l'incremento percentuale attenzione non è un valore giornaliero ma un valore settimanale nell'ultima settimana trascorsa quindi fra il 30 settembre e il 7 di ottobre andiamo subito a individuare la nostra regione Liguria Liguria purtroppo la troviamo in zona rossa insieme al Veneto purtroppo sono le ultime due regioni che sono sopra la media sia come prevalenza quindi casi ogni 100.000 abitanti sia come incremento percentuale nella settimana trascorsa le ragioni che si comportano che si sono comportate meglio nella settimana trascorsa sono il Molise e le Marche che vedete in zona verde per quanto riguarda poi gli altri dati che di solito giustamente facciamo menzione e non ci tiriamo indietro in questo appuntamento di questo 8 di ottobre andiamo a vedere i dati mondiali col grafico 20 Marco il grafico 20 ci parla di dati aggiornati al 7 di ottobre perché è il giorno completo ultimo che abbiamo a disposizione e vendiamo purtroppo sempre dei grandi incrementi non c'è un valore che decresce naturalmente il valore totale per sua natura non può crescere perché è un montante che continua a aumentare al massimo si ferma quello che cresce però purtroppo è anche il numero degli attivi cioè attualmente positivi nel mondo stanno sfiorando i 10 milioni siamo a 9.869.306 attualmente positivi in tutto il mondo e ricordiamoci che come attualmente positivi non sono i veri positivi cioè tutti positivi effettivamente oggi per esempio perché è impossibile censirli e quindi saperlo ma sono coloro i quali sono stati riconosciuti positivi col tampone e non ancora negativizzati quindi non hanno ancora il secondo tampone negativo e quindi risultano ancora malati di coronavirus i decessi continuano ad aumentare purtroppo anche se rallentano rispetto agli ultimi due giorni così però purtroppo rallentano anche i guariti andiamo a vedere col grafico 21 con la tabella 21 quali sono i paesi più colpiti neanche a dirsi sempre gli Stati Uniti d'America lassù in cima con i suoi quasi 4 milioni e 400 mila attualmente positivi l'India che si è fermata nel fornire dati la cosa ci preoccupa non poco è comunque a secondo posto per quanto riguarda i totali positivi il Brasile il Brasile ha superato proprio ieri i 5 milioni di totali positivi e sta risalendo purtroppo la Russia a sua volta sta salendo la Colombia sono tutti in salita questi paesi come anche attualmente positivi l'Argentina l'Argentina un'accelerazione interessante purtroppo a livello numerico da menzionare poi troviamo la Spagna anche la Spagna è in accelerazione così come anche poi altri paesi europei come la Francia e anche la Germania nelle ultime ore il Perù in discesa il Perù è in contotendenza fortunatamente come attualmente positivi stanno calando leggermente sale continuamente continua a salire purtroppo però il valore del Messico questi sono i paesi più colpiti e sono fotocopia diciamo delle ultime settimane quindi tutti quanti stanno continuando a salire cosa che ad esempio altri paesi come Cina naturalmente e anche Corea del Sud stanno invece regredendo come pandemia domande Marco allora volevo grazie aiuto anche dalla grafica Marco col confronto influenza covid farvi un po' vedere un raffronto se riuscite a vederlo altrimenti ve lo leggo io fra la sintomatologia la velocità di trasmissione la durata della malattia di che cosa della covid 19 e della influenza intanto l'influenza ha sintomatologia molto simile al covid cioè la febbre la tosse la stanchezza il respiro corto il dolore muscolare e i disturbi gastrointestinali non che vengano tutti assieme però queste sono le sintomatologie molto comuni per un'influenza stagionale il covid ha le stesse sintomatologie a cui si aggiunge che cosa la perdita del gusto e la perdita dell'olfatto questi sono i sintomi esclusivi per la covid 19 la velocità di trasmissione l'influenza richiede per l'incubazione un giorno e mezzo circa come valore medio mentre il valore medio della velocità di trasmissione per quanto riguarda l'incubazione della covid 19 di 4 5 giorni per quanto riguarda i tempi di replicazione dei casi cioè di distribuzione del contagio ci vogliono 3 giorni per quanto riguarda l'influenza 6 8 giorni per quanto riguarda la covid per quanto riguarda l'R con 0 quindi la capacità di infettare una semplice influenza è fra lo 0,9 e il 2,1 quindi è a cavallo dell'1 però non così elevato mentre la covid ha un valore di R con 0 quindi quante persone contagia un singolo malato molto più elevato quindi molto più contagiosa questo vuol dire dal 2 al 3,8 il famoso R con 0 la durata della malattia l'influenza richiede all'incirca dai 3 ai 5 giorni per come decorso mentre la covid 19 richiede dall'1 a 2 settimane quindi anche molto più lunga come degenza come malattia il quadro clinico in casi che necessitano quindi di ospedalizzazione in caso di influenza siamo all'1-2% del totale degli influenzati stagionali questi sono dati inconfutabili e raccolti in questo caso dall'ospedale Sacco di Milano mentre per quanto riguarda la covid-19 necessita di ospedalizzazione questo è un dato che arriva nel rapporto marzo-maggio 2020 fra il 15 e il 20% dei malati quindi un valore nettamente più elevato questo porta a ragionare sull'importanza delle terapie e dei reparti di terapia covid che devono essere il più liberi e il più disponibile possibile proprio perché la percentuale di dei malati che poi richiederanno un'ospedalizzazione è più elevata rispetto a una comune influenza e poi sommiamo al fatto che il coronavirus come abbiamo visto poco fa è molto più infettante dell'influenza stagionale questo è un quadro di raffronto fra l'influenza e la covid-19 poi andiamo a vedere ciò che è uscito ieri e che vale da oggi cioè il DPCM il DPCM del 7 ottobre quindi la presidenza del Consiglio dei Ministri partiamo col grafico 30 Marco il grafico 30 quindi parla dell'uso della mascherina abbiamo visto che l'uso della mascherina è diventato obbligatorio praticamente ovunque quindi diventato obbligatorio ma questo lo era già negli uffici nei negozi nei centri commerciali quindi al chiuso poi la mascherina grafico 31 è sempre obbligatoria nei mezzi di trasporto il 32 ci sono le multe per coloro i quali violano la quarantena da 500 a 5.000 euro di multa è un arresto da 3 a 18 mesi coloro i quali sono stati ufficialmente decretati da quarantena devono stare in quarantena se non lo fanno arresto da 3 a 18 mesi e 500 oppure fino a 5.000 euro di multa il grafico 33 l'obbligatorietà durante l'attività sportiva non è obbligatoria la mascherina stiamo parlando di mascherina naturalmente per le attività motori all'aperto e al chiuso se rispettano però una distanza almeno di 2 metri nel caso in cui al chiuso all'aperto si fa un'attività sportiva con altre persone quindi la cui distanza fra di loro minore di 2 metri è obbligatoria la mascherina grafico 34 ad esempio il bar prendiamo l'uso della mascherina al bar sempre obbligatorio anche al banco tranne naturalmente quando si beve o si mangia ovviamente neanche a dirsi andiamo avanti nei ristoranti grafico 35 vanno sempre coperti naso e bocca con la mascherina appunto quando non si è al tavolo quando si va al bagno o in entrata o in uscita naturalmente quando si mangia si è seduti al tavolo non è obbligatorio anzi come si farebbe mangiare altrimenti questo è un po' il quadro generale che è riassunto con la grafica Marco quella relativa al DPCM del 7 ottobre che fa un po' un riassunto intanto con diciamo il decreto di ieri è stata prorogata lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 quindi va a coprire completamente un anno poi abbiamo detto l'obbligo della mascherina quando e come su luoghi di lavoro al chiuso eccetera eccetera non va portata ai luoghi all'aperto isolati con persone conviventi naturalmente se sono conviventi non è necessaria nelle proprie abitazioni quelle private in casa nostra in poche parole e per i bambini sotto i 6 anni ricordiamoci che invece ci sono sanzioni anche per quelle di quali trasgrediscono l'uso della mascherina in questo caso siamo fra il 400 euro minimo e i 1000 euro di sanzione ricordiamoci con questo nuovo DPCM è stata presa una posizione importante verso i provvedimenti che possono prendere le regioni cioè le regioni potranno prendere provvedimenti solo più restrittivi non più libertini e questa è un'altra importante novità domande Marco? ok quindi se non hai domande visti un po' i numeri che non sono tanto rose ma speriamo che siano rose magari la prossima volta che ci rivedremo verosia martedì prossimo sempre alle 20 qui su Intella TV e con tutte le novità che ci siamo detti io ringrazio per l'ascolto e ci ritroviamo quindi qui su Intella TV alle 20 martedì prossimo grazie grazie a tutti grazie a tutti